Posso entrare o vuole spararmi? Ma ne pare! Watson, sono ad un passo dello spararmi in testa, sta finendo il cibo e il mio corriere è in ritardo! Non esageri! Me la da? Sa che sono passati tre mesi dalla fase 1? Piano Watson, sono fotosensibile! Non pensa sia ora di uscire di casa? Non posso, non posso! La mia mente si ribella al 5G! Datemi candeggina, datemi un complotto! Prima è, meglio è! Il giornale! Grazie! Vediamo la posta! Qui abbiamo una lettera dell'Inps, la sua richiesta di rimborso... È stata accettata! È stata del tutto respinta! Chiederò il reddito di esistenza! Siamo a giugno! Sì, Holmes! Va bene! C'è una raccomandata... Sollecito... Oh! Sembra che da domani sarà senza corrente! L'elettricità ci rende schiavi e vittime dei poteri forti! Ah... Ehm... Non si aspetti che li assecondi con l'appe immuni! Beh... Non sarà mica uno di quelli che crede ai vaccini col mercurio! Cambiando discorso... C'è un unico complotto che mi appassiona davvero al momento! Il curioso caso di Mrs Hudson! La sospetta padrona di casa! Ho esaminato attentamente le sue osse! Hanno un'aria molto... Di sinistra! Te, Mr. Holmes? C'è del mercurio, nonnina? La prego di non tentarmi! Non tocchi! È tutto nel posto più appropriato! Come Magalli! Nonnina! Oh! Ha ucciso il cane! Di nuovo! Cosa ha fatto a Pappalardo stavolta? Eh... Stavamo solo guardando Barbara d'Urso! A lui non dispiace! Salve trottolini amorosi! Prima di andare via lasciate un commento, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdervi nulla! Nel frattempo mettetevi comodi, fatevi un panino e restate con noi, perché faremo altri stupidi video! Robin Cervatsky, in diretta per Fono Frascati!